Di quanta e quale storia ha bisogno la nostra fede in Gesù? Bisogna sempre tener conto di un fatto, che la fede non è un'aggiunta alla ragione storica. La fede è un complemento alla ragione, è qualcosa che serve a tenere insieme, a entrare negli interstizi di quello che la ragione storica non ci dice sufficientemente. Non si può essere cristiani affidandosi unicamente alla storia, se non altro perché la storia potrebbe darci la certezza che Gesù sia veramente vissuto, ma non ci darebbe la certezza di quello per cui un cristiano è tale. Binomio fede-storia, questo è il tema, l'interrogativo sulla potenziale conciliazione dei due aspetti, posto al centro della prima delle sette lezioni del lunedì che si svolgeranno al seminario diocesano di Vicenza. Il corso, aperto a religiosi e laici, punta a far luce su una conoscenza seria della ricerca storica su Gesù, per meglio situare la sua figura e la sua opera e sfatare false credenze o l'uso distorto di alcuni apocrifi, come nel caso del best-seller di Dan Brown, Il Codice da Vinci. Proprio partendo da quanto oggi, come dire, si rileva, vale a dire, un interesse alla storia, ma ci si domanda se effettivamente è un interesse che mira ad affrontare questo problema del rapporto tra storia e fede. Ho l'impressione che questo non ci sia. Ecco, sta di fatto che il rischio è che la fede, disancorata dalla storia, diventi un'ideologia. E questo, evidentemente, elimina in fondo quello che è il fatto cristiano in quanto tale.